Salve a tutti ragazzi qui TTD e benvenuti in questo nuovo episodio di Until Dawn Andiamo avanti ragazzi che siamo qua con Mike Andiamo Capitolo 9, disperazione, due ore all'alba Manca poco, manca poco Però è morta un po' di gente Amen Chiudiamo Ok Non siamo di nuovo dentro al manicomio, vero? Eh mi sa di sì Però dovrebbe essere finito tutti quegli spaventi inutili E questo è un bene Questo è di certo un bene Di qua si può andare? No, ok, di qua Ok Andiamo Eh mi sa che siamo di nuovo al manicomio Non è proprio un bel posto però vabbè Ma ora che mi ricordo avevamo trovato un totem di quelli del pericolo se non sbaglio Con Mike Dove si vedevano le mani dei windigo che comparivano da 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 tipo delle gabbie Quindi Potrebbe essere quella roba che diceva il diario che li aveva catturati Però non sto capendo dove devo andare Ok Ah di qua Andiamo Ok Cosa c'è di qua? Porca troia Oh Ah no beh è come prima Cosa è successo? Ah Chi c***o sa Ok Non c'è più niente La musichetta che parte Dove sono i lupi però? Proviamo ad andare di qua Ok Andiamo su Però si Cos'è successo ai lupi? Seriamente Punto qui Ok Scendiamo giù Interessante Dimmi che c'è un'arma Il lanciafiamme ci serve Il fottuto lanciafiamme Beh un canemozze però aiuta Una torcia Mancano solo un forcone e una faena Però la torcia ci può essere utile Visto che Li allontane col fuoco Andiamo con la torcia E poi Il canemozze Non fa schifo Riempirei tutte le tasche Sinceramente Molto bene Andiamo Siamo armati Siamo pronti La torcia La torcia di sicuro Aiuterà di più Del coso Ora bisogna solo capire Dove bisogna andare Dove bisogna esplorare Di più Ok qua C'era la porta Prima Che il lupo ci chiude Cioè non ci faceva passare No Ok Però qua Ah no c'era Ho sentito il rumore Ai 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 No Che palle Vabbè Meno un colpo Ok Meno uno Ciao lupo Però gli avevano tirato un calcio Ok 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 Eh beh Vabbè almeno abbiamo un compagno no? Un lupo Non so quanto sia utile Ma vabbè C'è un lupo almeno Cioè è veramente vabbò Dai lasciamo perdere del lupo Secondo me era meglio se eravamo In 18 persone qua così Forse ce l'avremmo fatta Con il lupo Non ne parliamo Dai lupo andiamo Mi sa che non si calma Perché c'è qualcosa Io andrei via Io andrei veramente via Andrei veramente via Però vabbè Vabbè O la spacca Bene Fantastico Eh beh Ok 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 La cosa che mi fa più ridere è che Se dobbiamo Ovviamente non scapperemo mai da qua Ma se Dovesse tornare indietro Scappare sarebbe impossibile dopo Ma vabbè Visto che comunque ci ha messo mezz'ora Per passare quella porticina Vediamo dopo se ce la fai Ok Qua in In una cosa che non dovevi proprio andare Fidati Si è nella merda ora Ok Seguiamo il lupo Ok Lupo Non andare così lontano va Salve T'ho visto T'ho visto Ok Ok Madonna Si è incazzato sto lupo B wing Ok Alla B Sentite Sentitelo sto lupo Wow E' dietro di noi E' dietro di noi Cazzo E' dietro di noi Sarà divertente Ok Andiamo Che cazzo Sparia quel robo Cioè Dai E' un ratto Oh Indietro Siamo a meno due colpi Non c'è più colpi ora però Corri lupo Corri anche te Ok Dritto No a sinistra Ok a sinistra Cazzo 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 Si è nella Nella merda E' il lupo Dobbiamo salutare il lupo Non hai colpi Ah C'aveva colpi Ok Quindi non ricarica mai lui Va bene Ok Ah Ciao lupo Bravo cane E' un lupo E' un lupo Non un cane Però vabbè Che cazzo era Stai fermo Non ti muovere Non ti muovere Non respiriamo noi Ok No la bottiglia La bottiglia La bottiglia Ma lanciala come decoy Ok Ok Ce l'abbiamo fatta Accidenti Ce l'abbiamo fatta Bene Vieni figlio di puttana Ok Dove sei? No non lo so Ok Qua c'era il totem C'era il totem Me lo ricordo Con le gabbie Ok Non ti avvicinare alle gabbie No no Non sparargli Non sparargli E' dentro un'altra gabbia Non sparargli Eh ma non Andar vicino Sei mongolo Attento le gabbie Attento questa Sono quei sei Wendigo Che lui ha catturato Attento No non sparare Non ha senso Non ha senso Non ha senso Ora sparare Quella però è aperta Pezzo di cacca Questo Torna indietro Torna indietro Ok No No Mori Mi sono fatto prendere Cristo Corri 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 Mike Corri Corri Vai lupo Vai È ovvio L'ultimo oro Giù Il barile di fuoco Ottima opzione Ottima opzione Ottima opzione Prendete questo Vi piace il barilotto Eh Crepate merde Crepate merde Eh Ok Ok Abbiamo però rilasciato Gli spirit Vabbè però sono morti Chiudi 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 Ok Va bene Abbiamo rilasciato gli spirit Ok Ma non ci inseguono Questa è stata una buona opzione Secondo me Non mi piace quel Pozzo Quel che è Non mi piace Voglio solo uscire di qua io E non so neanche perché ci siamo Siamo arrivati qua in generale Per prendere un canne mozze E due proiettili in croce È una scelta di merda È una scelta proprio del cazzo Ma vabbè Ok Andiamo Ok Ricordatevi ragazzi Per chiunque voglia andare in montagna Non vado in giro di notte Siamo tutti a posto No È la cosa più importante Madonna Oh L'ho visto Ok Ci insegue E lì c'è un buco Adesso ci compare qua sopra O comunque arriva l'ombra Dov'è il lupo? Salve Lo sapevo che è arrivato Boom Scappa Tanto Gli ho già visto sparare Conficare la mano ovunque Quindi Non serve niente Scendi Scendi Muore Muore Forse perché gli abbiamo tirato il calcio Vabbè Amen del lupo Sinceramente Girati Mike Mike girati Era pieno di esplosivi Cazzo Gli esplosivi È una buona opzione Ora Trepate Trepate tutti i bastardi Trepate nell'incendio Mi avete rotto il cazzo Per l'intero gioco Ora Via di qua Povero lupo Amen L'abbiamo perso Lo spirito del guendigo è Ciao ciao Manina Ciao ciao Addio Addio Ce l'abbiamo fatta Siamo sopravvissuti Ciao Salve Buongiorno Jess Buongiorno Riusciremo a farla sopravvivere? Merda È un po' Nella merda lei Probabilmente avrà 50 costole rotte E lei non ne sa niente E non abbiamo niente Che bello Queste qua se ne vanno a girare Tunnel per il sanatorio Io sarei rimasto là dentro Vabbè Dai Ce la stiamo facendo Piano piano ragazzi Stiamo Ce la facciamo Ora ci manca solo che sbuca Un vendigo lì sulle tubature Quello serve il massimo Il massimo Veramente Ok Ok Cosa succede? Eh sì Ciao Eh ha fatto bene Fidati Non è andata al sanatorio Non è andata al sanatorio Non è andata al sanatorio Cazzo Non ci andate Sembra che abbiamo Molta scelta Oh mamma mia Ok E via Secondo me È una Cattivissima scelta Io non andrei proprio Non andate Porca puttana Ci sono andate Vabbè Io spererei di no Sinceramente io spererei di no Vabbè Ok Scendiamo Ok Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Adesso compare la faccia del Wendigo Ok niente faccia del Wendigo Ok Andiamo Certo che sono andate veramente tanto avanti Sinceramente Io non sarei andato Cioè era meglio stare in gruppo Invece di lasciare qualcuno dietro Con tutta la sincerità Non ha senso andare avanti così Vabbè Oh Eccola qua Jess Attenzione però Il Wendigo può Usare tipo la voce degli altri Riunisciti al gruppo Non mi fido Non mi fido Non mi fido con tutta la sincerità Cioè bisogna ricordarsi che il Wendigo Può usare anche la voce degli altri Per Per ingannare No la preda Oh mio Dio Finalmente siamo insieme Ecco Stai bene Ok Certo che non avere un'arma non è che aiuta Ok Eh beh Eh beh Eh beh Quella cosa E qua con chi siamo Più che altro No No Sous-titrage ST' 501